sento puzza di mutanda cacata vi siete sgommati fino all'ultimo secondo una squadra il salisburgo che voglio ricordare l'anno scorso in casa del milan ha preso quattro papai e se n'è andata a casa ma d'altronde raga cosa ti vuoi aspettare sembra non so se vi a voi sembra la stessa cosa sembra quando in un grande concerto aspetta il grande cantante ma prima fai cantare i quelli emergenti o quelli inferiori ecco prima di una grande partita che sarà domani psg milan fanno giocare queste squadre quali basso livello perché poi alla fine fino all'ultimo fino all'ultimo eravate lì col sudore la strisciolina sulla mutanda lì in preghiera speriamo che non ci segna perché se no so guai raga dai è una partita di cempio bisogna asfaltarli questi qua detto questo però possiamo dire tutto quello che vogliamo l'inter ha vinto conta solo la classifica sette punti ormai diciamo che ha quasi ipotecato la qualificazione anche se se giocano così in casa del salisburgo prendono le prendono gli schiaffoni raga ci vediamo stasera dopo la partita del napoli domani invece vedremo davvero il calcio che conta contro il pg forza lukaku forza lukaku perché l'interista è talmente fesso che ha dovuto prendersi 50 mila pischietti perché non è capace manco a pischiare sempre forza milan